Ci occupiamo del processo che porta l'insegnante a creare un compito, attribuirlo allo studente, lo studente lo riceve, esegue il compito, lo restituisce all'insegnante, l'insegnante lo corregge, scrive delle annotazioni, assegna un voto, lo restituisce allo studente. Lo studente riceve questo compito, decide di rifarlo, lo restituisce all'insegnante, l'insegnante ovviamente lo ricorregge, inserisce i suoi commenti e cambia la valutazione. Questo processo che sembra molto complicato, è in realtà quello che si svolge quotidianamente a scuola, viene riprodotto all'interno di Classroom. Ce ne occupiamo subito, nel giro di qualche minuto noi lo sviluppiamo completamente. Per farlo, come vedete, ho predisposto due browser. Uno è Safari, con il quale sono logato all'interno del corso come insegnante. Lo vedete? Questo sono io e sono qui come docente. Questo invece è Chrome e qui sono inserito all'interno del corso, lo stesso identico ovviamente dell'insegnante, sono inserito come di prova allievo. E quindi possiamo vedere contemporaneamente che cosa succede. Allora, cominciamo da Insegnante. L'insegnante ha la possibilità all'interno del corso di creare il compito. E quindi cosa che fa immediatamente? Scrive un titolo, le istruzioni, crea aggiungendo in questo caso un documento, assegnerà una griglia di valutazione, stabilirà che questo compito deve far parte di un argomento determinato, aggiunge la scadenza, assegna una valutazione, stabilisce che tipo di categoria di voto, se queste categorie sono state create e così come la griglia, anche la griglia deve essere stata creata oppure viene creata al momento, ma di questi due aspetti ci occuperemo in un'altra occasione. E dopodiché lo assegnerà, lo salva come bozza oppure lo assegna a tutti gli studenti o a qualcuno in particolare. Questa è la procedura. Questa procedura l'abbiamo già svolta, ovviamente, e andiamo nella sezione lezioni e ci troviamo dove troviamo appunto come bozza il compito che abbiamo assegnato. Quindi dalla bozza, modifica, stabiliamo quali sono, controlliamo che sia tutto corretto e poi stabiliamo quali sono gli studenti a cui lo assegniamo. in effetti è uno solo ed è lo studente di prova allievo. Vediamo che questo compito ha un titolo, poi ci sono le indicazioni e c'è un allegato. Un allegato che serve allo studente per vedere, valutare, insomma, farsi ispirare nella stesura del suo compito. Ed ecco il compito come appare. Quindi prima di scrivere indica chi sarebbero rivolte queste regole d'ingaggio, lo studente deve semplicemente andare a capo e poi scrivere il suo compito. Bene. Ora siamo tornati nel riquadro del compito che deve essere assegnato e a questo punto lo assegniamo. Assegnare esercizio 1, eccetera. Gli studenti potranno visualizzare immediatamente il compito. Perfetto. Assegna. Ora che il compito è assegnato non ci appare più in grigio ma in nero scuro, quindi lo vediamo, ma passiamo allo studente di prova. e vediamo lo studente di prova che cosa può vedere nel suo corso. Dovrà recarsi anche lui nella sezione lezioni. Ha ricevuto una mail ovviamente di annuncio che gli è stato assegnato un compito e poi nella sezione appropriata lo potrà sempre rintracciare ed eccolo qua. Questo è il compito. Il compito, abbiamo qui l'opzione visualizza, compito, perfetto. Il compito viene visualizzato, ma quello che ci interessa è che l'allievo ha questo riquadro al suo interno, quindi può mandare anche un commento immediatamente all'insegnante e si ritrova il compito qui, il tuo lavoro che è stato assegnato. Potrebbe anche aggiungere degli altri documenti, degli altri materiali a supporto del suo lavoro. Quindi cosa farà il nostro allievo di prova? Il nostro allievo di prova apre il compito e quindi lo svolgerà. Facciamo finta che questo sia il suo svolgimento. In effetti allievo di prova ha appena visto Shining, dove Jack Nicholson scriveva in continuazione il suo romanzo che aveva un'unica frase, il mattino a loro in bocca. Ora speriamo che il mattino abbia loro in bocca anche per il nostro allievo di prova. Quello che non deve fare il nostro allievo è di condividere questo lavoro. Perché? Perché Google Classroom ha già registrato quello che lui ha scritto e l'ha registrato nel modo appropriato. Quindi chiuderà questa scheda, l'allievo torna nello spazio del suo compito, cioè dove l'ha ricevuto e a questo punto può consegnarlo. Vedete c'è il pulsante di consegna. Quindi non l'ha condiviso là dove lui l'ha svolto, ma lo consegna qui. Perché questa è la funzione del compito. È molto importante questo fatto, altrimenti che cosa succede? Succede che voi riceverete dei messaggi strani da parte di vostri studenti che vi dicono ho consegnato il compito, ma voi questo compito non l'avete. Non l'avete perché lui pensa di averlo consegnato attraverso il pulsante di condivisione e invece quel pulsante non serve per consegnare il compito. Il compito si consegna qui, eccolo qua. Consegna il compito. Verrà inviato a due insegnanti, eccetera, eccetera. Perfetto, consegnalo. Che cosa succede adesso? Lato insegnante? Verifichiamo. Lato insegnante? Vediamo che, avete visto, in tempo reale è cambiato da uno assegnato a uno consegnato. Quindi i compiti assegnati sono quelli che l'insegnante ha dato, consegnato, ha somministrato ai suoi studenti, ma che i suoi studenti non hanno ancora restituito. Invece, in questo caso, eccolo qua. Uno studente l'ha restituito. Cosa farà allora l'insegnante? Può vedere quali sono i compiti consegnati subito, direttamente. Qui, naturalmente, se questo docente, che poi sarei io, avesse una classe di 30 allievi, 20 allievi, quello che è, avrebbe 20 riquadri, 20 riquadri suddivisi tra consegnati o assegnati. In questo caso abbiamo di prova allievo l'unico consegnato. Allora, l'insegnante farà così, farà un bel clic qui sopra, e cosa visualizzerà? Beh, visualizzerà il compito, ecco, quello che abbiamo appena visto. Adesso lo deve correggere. Bene, allora, è molto facile, perché è un compito completamente sbagliato. Vediamo, sottolineiamo questa frase, magari la evidenziamo così, e nei momenti in cui noi selezioniamo una parte di ciò che ha scritto, qui appare la possibilità di commentare. Quindi, vedi, vediamo, commentiamo. Diciamo questo, incipit è sbagliato. Poi, prendiamo un altro punto, questa volta senza evidenziarlo, qui appare il pulsantino più, aggiungi un commento. Benissimo, commentiamo. Certo che è molto faticoso svolgere un compito così. Commenta. Prendo un'altra frase e scrivo, per esempio, in insufficiente. Insufficiente cosa mi appaiono? Mi appaiono tutta una serie di giudizi che io ho già scritto e che ho depositato nel deposito dei commenti. Allora, questa cosa ve la spiegherò in una prossima lezione. Adesso ci rimettiamo ad assegnare questa valutazione. Scrivo la parola standard perché ho creato delle valutazioni standard, le ho chiamate così proprio standard, e quindi queste vengono richiamate e le posso commentare. Diamo un bel voto. Che voto possiamo dare? Beh, io darei un bel 4, per esempio, di voto. Oppure possiamo avvalerci anche della griglia. Diciamo che la struttura va bene perché è ordinato, ha copiato sempre la stessa frase. Possiamo dare un minimo di punteggio. La creatività mi sembra proprio che sia a zero. la composizione praticamente inesistente, quindi cosa vogliamo dare? Lui si ritroverà con 1,67 di punteggio, in questo caso. E questa griglia voi non l'avete perché se non l'avete creata e inserita precedentemente non potete utilizzarla. Ve l'ho fatta vedere perché questo poi sarà oggetto di una successiva lezione. Quindi ricordiamoci che il database dei commenti e la struttura di una griglia funzioni utili all'interno di un compito. Ecco, di queste due cose ci occuperemo in seguito. Qui però possiamo aggiungere un commento, cioè possiamo parlare con il nostro studente. Cosa gli diciamo? Gli diciamo Ragazzo mio, rifai tutto. Pubblica, pubblica non vuol dire che tutto quello che noi abbiamo fatto qui va chissà dove su internet e chiunque lo potrà vedere. No, pubblica significa semplicemente che questo commento che noi abbiamo scritto sarà visibile al nostro studente, cioè gli arriva, gli arriva per posta, ma sarà visibile anche all'interno della struttura del suo compito. Quindi pubblica? Certo. E dunque a questo punto possiamo restituire il compito. Di prova allievo a 1,67 di punti. Perfetto, restituiamo. Vediamo, già che ci siamo, che cosa succede del lato insegnante. Succede che vedete l'uno che era consegnato è passato a uno con voto. Quindi avevamo un compito assegnato che poi è diventato un compito consegnato e poi è diventato un compito con voto. E il voto appare qui. Se noi facciamo clic sul nostro allievo appare il compito con le modalità che abbiamo dato della valutazione che possiamo sempre cambiare perché si può instaurare una discussione con il nostro allievo, gli possiamo dare l'opportunità di rifare il compito, per esempio, o di apportare, non so, delle spiegazioni attraverso questa chat che ci consentirebbero di modificare sia la griglia che il voto finale. Quindi, e ovviamente le modifiche in griglia influiscono sul voto finale. Per esempio, se io qui cambio il voto e scrivo 2 e poi batto Enter, ecco, vedete che qui il voto passa a 5 e invece lo riportiamo a 0. Oh, che cosa succede? Lato studente, andiamo a vedere. Oh, lato studente, che cos'è successo? Comunque lo studente può vedere che il suo voto è di 1,67 su 10. Insomma, neanche un 2 pieno questo povero allievo di prova. Poi c'è un commento che dice ragazzo mio, rifai tutto. Ah, dice lo studente, allora posso rifare. E come faccio a rifare il compito? Per rifare il compito è molto semplice. Lui, prima di tutto, cancella questo compito e poi ne crea una copia. Quindi è chiaro questo, il compito che lui ha svolto è come se lo annullasse ed è disponibile a questo punto a creare una copia del compito. E quindi ecco qua che è stato creato un nuovo compito. Quindi questo povero allievo di prova che continua a fare il furbo farà così. Dice, beh, ho copiato e incollato quello, forse devo copiare e incollare questo. Di nuovo non deve fare niente con condividi, deve semplicemente chiudere questa schermata e poi deve inviare di nuovo il compito. Pronti? Via. Quindi ecco che lui per la seconda volta invia il compito. Corretto? Cioè, insomma, corretto. Tutto da vedere. Passiamo adesso lato insegnante. Lato insegnante che cosa succede? Succede che il docente si ritrova un compito. Bene. Proviamo ad aprirlo. Oh, beh, così è molto meglio penserà il docente. Bravo. hai fatto finalmente un buon lavoro. Quindi andiamo a ripescare una valutazione. Ottimo. Beh, è un commento ironico. Ottimo, forse un po' lungo. L'esame dovrebbe essere più sintetica. Dire tutto con meno parole. Però un maschio, quindi faremo così. Sarai un po' lungo, dovrebbe essere più sintetico. perfetto. Perfetto. Commenta. Qui, sia nel voto che nella griglia, si ripropone la valutazione precedente. Quindi, diciamo che la struttura è rimasta uguale. La creatività, beh, non si può dire che lo studente non abbia dimostrato creatività. diciamo, la composizione è anche migliorata perché questo arancione così centrato è sicuramente più carino di quel nero di prima. Quindi ecco che lo studente passa a una valutazione di 5 e aggiungiamo un commento privato. Bravo. Hai realizzato un progresso eccezionale. E quindi pubblichiamo. pubblichiamo il ricordo che significa non che va su internet ma che è lo studente riceve privatamente questo commento. E poi restituiamo il compito. Allivo di prova. In precedenza ero 1,67 adesso è 5. Restituisci. Molto bene. Vediamo che cosa succede negli, ecco, nei compiti. Vedete che in tempo reale è cambiata la valutazione. come l'avete proprio visto è cambiata anche la griglia. Tutto. Tutto. E intanto i due commenti privati sono stati spediti. Passiamo adesso allo studente. Wow. Lo studente si ritrova con il voto cambiato e a questo punto e a questo punto potrebbe aggiungere un diciamo, non so, un link. Vediamo un po'. www.aggiungiunlink.com Non so neanche se c'è questo questo sito ma diciamo che lui aggiunge un link e scrive all'insegnante che grazie ho anche creato questa pagina web per dimostrarle che conosco bene l'argomento. Bene. E quindi spedirà questo messaggio privato all'insegnante e però deve di nuovo inviare il compito quindi invia di nuovo provo allievo invia questo compito con l'allegato benissimo consegna e quindi passiamo al lato insegnante lato insegnante che cosa abbiamo? Ecco qua che è comparso Alessandro Manzoni T. Wow andiamo a vedere esiste proprio il sito ma niente no non c'entra nulla va bene però diciamo l'insegnante dice vabbè se l'ha creato il mio studente guardate magari Di Manzoni non sa niente però se la cava con i siti e quindi che cosa farà? Tornerà qua all'interno della sua valutazione e dirà guarda questa volta mi sembra che la struttura di questo sito sia interessante cambio la valutazione e finalmente il nostro studente passa a una valutazione positiva però l'insegnante deve sempre restituire il compito ti provo allievo restituisci il compito zacchete vediamo che cosa succede ora lato allievo lato allievo è cambiata la valutazione eccola qua i compiti sono stati consegnati lui è soddisfatto non gli resta che ringraziare grazie prof lei è un grande come dicono i soliti gli studenti questo è il lavoro dell'insegnante questo è il lavoro svolto dallo studente questo dialogo consente di creare una vera relazione educativa a distanza dello stesso tipo molto molto simile a quella in presenza posso dire solo una cosa per concludere che ovviamente il tutto si può anche sviluppare attraverso la consegna di un quaderno vale a dire aggiungi o crea lo studente può allegare un file e ovviamente questo file può essere il suo quaderno in pdf oppure il compito che proprio ho svolto a mano manualmente su un foglio e che l'insegnante commenterà e al quale attribuirà un voto esattamente nello stesso modo che abbiamo visto adesso quindi spero che sia tutto chiaro non resta che provare arrivederci